Ciao a tutti i puzzole gamer dreamers e bentornati qui su, no bentornati su niente, benvenuti qui E' vero, su niente Benvenuti su Squid Game Aspetta non ti ho visto, cosa che hai fatto mentre hai detto Squid Game con le mani? Ho fatto, perché? E' perché sotto sai fai Quindi volevo sapere cosa avessi fatto mentre facevi Squid Game Ho fatto la cosa di aprire e chiudere le mani Ok, l'avevo immaginata giusto allora Oggi siamo in compagnia della Sabri perché oggi io e la Sabri abbiamo un obiettivo Quello di vincere di Squid Game Già, non siamo state bravissime nel mio video Nel video della Sabri non siamo state bravissime Trovate il link giù in descrizione Io parlo come al solito in maniera sbagliatissima Sabri sei pronta? Vai, ma guarda che io ti sento che parli bene, vado nel rosa? Vai nel rosa Viamo nel rosa Nel rosa? Nel rosa È nel rosa Quindi ragazzi se voi volete altri video Dobbiamo aspettare Gli altri giocatori Ah, ok Quindi ragazzi se voi volete altri video mi raccomando Lasciate un bel mi piace adesso Iscrivendovi ai nostri canali Tappando la campanella Instagram e TikTok Saranno giù in descrizione Poi saranno giù in descrizione Il video delle nostre magliette Il merch Never Stop Dreaming E anche il Stun Gaming Allora ragazzi Voi in giù nei commenti Fatemi sapere Se avete mai giocato a questo gioco Avete mai visto questa serie? Dove sei? Sabri perché ti vedo scompasvanire? Dove sei? Eccoci Io sono qua Waiting for players Sì sì Non ti vedevo più Camminavi dritto davanti a me All'improvviso sei scomparsa Eccoti ora ti vedo Fateci sapere se l'avete vista Se la state vedendo Se avete giocato a questo gioco Se non avete avuto paura di giocare a questo gioco Perché la Sabri è una dittima figura No raga io mi cago sotto davvero Ha promesso che stasera vedrà la prima puntata Sì 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 Guardaci Sabri siamo qui a terra Dove siamo? Io sono il numero 194 Ah ecco io sono il 252 252 il rapporto Andiamo Franci Corri 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 C'è già un muro qua Ah tieni premuto Come è possibile? Tieni premuto shift Oddio qualcuno Ah corro veloce Vai più veloce Hai visto quello morto? Come posso dire che quello era morto lì? E da quel che ho capito Qui puoi già comprare qualcosina Per? Voglio shoppare Voglio shoppare Franci Non puoi shoppare già Ho i robbox Sembra non da shoppare Siamo arrivati al primo gioco Il primo gioco dovrebbe essere 1-2-3 Stai là Ho comunemente Liamato stella È stato un trauma Quando ho scoperto Che era un dettivo È vero Ma va bene Allora Stiamo vicino Stiamo lontani Stiamo vicino Stiamo vicino Devi usarti come scudo Ok Ah grazie Con la fiammella di cemile Alza un po' così sento Vai senti senti Allora Adesso stanno spiegando le regole Quando dice Red light Si cammina Quando dice No quando dice Green light Si cammina Quando dice Red light Si sta fermi Green light Corri sa Corri sa Non avevo capito Che qua si potesse correre Ok ok Non ti muovere Sabri Perché negli altri Si può camminare Quindi non me lo aspettavo Eh ti hanno aggiunto Lo shift Ti uso io come scudo Ok Franci Franci Ti ho visto Sei morta Ti ho visto infatti Che ti eri girata Troppo tardi Ma no Ma quello era fermo Allora faccio Ritorno O ricominciamo Facciamo Facciamo che questo Era un allenamento Un po' provvisorio Esco anch'io Ok Ok Cioè ma ero ferma La Franci mi si è lasciata Prendere un po' dal panico No vi giuro Io t'ho visto proprio Che lei si è girata E stavi ancora correndo No invece a me E davanti a me Cioè ho la prova Che quando ha detto Red Light Io mi sono fermata E allora magari Hai laggato Perché io t'ho proprio visto Tutti fermi E tu che correvi Infatti ha detto Franci Allora può essere Può essere Che sia stato Eppure ti stai rampicando Sugli stecchi No no c'è la prova C'è la prova Ho messo in pausa L'upload Del tuo video Perché può essere Stato quello Probabile sì Magari può essere Stato un po' di lato Vai sapienta Nella cosa rosa Sono nel rosa Sono nel rosa Ok Intanto vado Il tuo cappuccio Ho preso dei boccor Piccoli da mangiare Guarda come sono piccoli Non farmi venire fame Ti prego Ok Sono buonissimo Questi boccor Sono del cinema Vero Ma a proposito Di firma copie Ma Ma a Napoli Non vieni Spero di sì Per ora mi hanno messo Altri eventi Tipo Macerata Roma Sì ho visto Emilia Romagna Ma vedrai che Verrò a Napoli Finalmente Riusciremo a fare Qualche video insieme Ci vedremo Sì Ma speriamo Ma sì Ma sicuro Franti Se no Mi metto a piangere In turco Era lì di convinta Ok ok Le date Le date E non c'era Napoli No non c'è ancora Ma arriva 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 Ho sentito la musichetta Trista Perché voi Pussle Dreamers Volete dei video Dove noi ci incontriamo Davvero Cioè non solo Che giochiamo qua A casa mia E lei a casa sua Dobbiamo proprio incontrarci Sì È passato troppo tempo Da quando ci siamo incontrate Ci siamo viste alla Games Week Anni fa Sì Anni 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 Sì sì anni Io penso che fosse La mia prima Games Week Da YouTuber Davvero Ma Franci Ma ti posso dire una cosa Io non mi aspettavo Tu avessi così tanti video Sul canale Io sono andata a vedere Il tuo canale Ma hai anche tu Migliaia di video Sì ma perché Prima facevo gli slime No ho capito Ma non mi aspettavo Così tanti Eh io ho sempre pubblicato Tutti i giorni Sempre Eh ma non me lo aspettavo Sono rimasta Ma Franci Praticamente Non ti dico Che abbiamo aperto insieme Ma quasi Abbiamo quasi Lo stesso numero di video Ma pensa a te Gli slime Ma sei brava A fare gli slime Un giorno facciamo uno slime Sì ho buttato tutto Quindi dovrei ricomprare le cose Io ho tanta roba Ce l'ho io Ce l'ho io Ma mi piace E poi le ho regalate anche In realtà le mie congelette Eh beh certo Però Sapevo fare un sacco di slime A costa Cose comprate dall'America Per farle Ok mi sono distra Ferma Sì sì mi sono fermata Mi sono fermata Brava Ok È che con sta roba Che puoi correre È più difficile Ferma Ti frega No quella si No perché mi muovete Perché muoiono Cavolo Lì Perché si muovono Perché la telefona è difficile Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono No per un attimo Sarà bloccata lei E noi fa le cose A tempissima diversa Eh sì Io è arrivata Anche io Ma no Propriamente diceva Red light Quasi sono state bravissime Sono saltata Sulla testa della guardia Cioè questo è molto più difficile Del tuo Lo ammettiamo No è molto più difficile Fran Poi immagino Che da telefono Sia ancora più difficile Perché devi premere con due Invece sai Io metto un bignolino Su tab Mamma mia La gente dice Oh my god Ce l'ho fatta Ho appena scoperto Che c'è la faccina Per il tuo avatar Con l'apparecchio Veramente Devi metterla La devo mettere Sì sì Devi metterla Sofia torna indietro Che quella Tu ce l'ha Sofia Se passi La social È vero È vero C'è l'apparecchio Che carina La devo mettere Ok dai Prima Ce l'abbiamo fatta Guarda però Quante persone Sono state eliminate Tantissime Io ero Non ho visto che numero sono Io sono È vero Non l'abbiamo visto Io sono sempre 194 Anche io sempre 252 Eccomi qua E che so perché Anche nel video di Joseph Ero 194 Veramente? Sì Lui era 193 Pensate C'è anche l'uno No ma no A fiancato c'è l'uno Adesso Franci qual è? Ah Quello del biscotto Ah quello che bisogna Del biscotto E qua come va fatto? Cosa si deve premere qua? Devi tracciare la linea Uguale all'altro Perché l'altro era pezzettini Per pezzettini Dovevi premere sul mouse No no Qua devi fare con la linea Ok Devi tenere premuto quindi Sì Vi prego Triangolo Sì infatti Anche io vorrei qualcosa Di facile Mi esce sempre il cerchio Che è difficilissimo Vedi queste sono le quattro forme Che esistono Cerchio Allora mettiamoci di fianco Al triangolo Non funziona Ma sono difficili anche La stella Non penso che sia facilissima La stella una volta l'ho fatta Non è molto difficile L'ombrello L'ho uscito a Joseph E ha detto che è difficile Eh immagino Immagino Vai Sono pronta Sono prontissima Allora Dimmi a te che cosa ti danno eh Franci Ok lo scopriremo Sono di fianco a Sofì Con l'apparecchio Io sono da sola Praticamente Praticamente In questo gioco Ci viene dato Un biscotto E ho l'ombrello Sabri Aspetta Clicca sul biscotto Oddio Si sta rompello Ah ok Il mio Io non so perché Ma devo premere ancora Cioè devo premere ogni pezzettino Devi No si fa Si fa la striscia Si fa la striscia colorata Vedi Sì sì Io sto premendo pezzettino per pezzettino Io ho il triangolo Franci Ho l'ombrello No Si è già crevato Scusa se non parlo Ma è perché Sono concentratissima Marò Marò Gesù Ok Quanto manca di tempo? 18 secondi Solo? Solo Però ragazzi Qua perdo Ce l'ho fatta 6, 5 Vai Franci 4 Ho perso Ho perso Come hai perso? Si è rotto? No Franci Come l'hai rotto? Ma perché tu l'hai fatto Tenendo premuto? Ti vedo morire Io invece no Ho premuto e lasciato Allora Che dici? Ricompro la vita e torno da te? Sì sì Franci compra la vita Dobbiamo arrivare all'ultimo Vabbè sono soltanto 99 euro Non sono tanti Sono pochissimi infatti Ma come sapere? Io ci sono Ma mi si è rotta A parte che mi è scaduto il tempo E poi l'ho rotto L'ombrello era difficilissimo L'ombrello era difficilissimo Eh sì Vabbè dai Io avevo il triangolo Quindi sono perdonata Ah questo qua però Siamo in tantissimi eh Quindi vuol dire che A parte Franci Gli altri non sono morti Ma non dire così Ma no Ma scherzavo Ma parla così soltanto Perché le è uscita il triangolo Esatto Solo per quella Sennò sarei morta molto prima di te Cioè volevo vederla Allora No Franci c'è quello che devi scappare No Questo è quello No Qua si compra con i robux Qua si compra con i robux Spegnere le luci Altrimenti ci sono solo i giochi Ah ok Ottimo Ottimo Adesso è quello della fune Che è quello difficile Che nel mio abbiamo perso Allora Sala Stiamo vicini Non so dove Ok Ecco Eh Esatto Magari non so Così Magari se stiamo vicini Siamo sulla destra Siamo proprio una sopra l'altra Ma Ciao non so Vediamo Franci dove sei Allora tu sei lì Mi sa che siamo insieme Mi sa che siamo insieme Sì Siamo insieme Allora in questo Devi cliccare sulla barra verde Ok Clicca quando è verde Ok Perfetto Siamo proprio di fianco eh Sono imbattibile qua Franci Sono imbattibile Te lo dico Due Io ho fatto uno Allora forse loro sono 37 Noi siamo 50 Quindi può essere che stiamo vincendo Anche se non so Stiamo super vincendo Mi sembra che stiamo camminando in realtà Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Stravinto Già ho fatto uno Numere uno Numere uno Ok 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 Allora Quindi adesso Il monte premi È 1960 Dollari Cosa facciamo con 1960 Dollari Franci? Li spendiamo tutti in pizza Ma sì dai Anche i McDonald's Sai quanti valori Ti metto Da un euro I crazy McBacon No io ci sto Oppure li posso poter comprare tutti album Gli BTS Ah certo Sai cosa ho appena fatto Con il bimbi Ho fatto la cheesecake Al caramello E alle racchi di tostate Sì Mamma mia Passami la ricetta Passami la ricetta Eh ma io la faccio col bimbi Anche io ce l'ho il bimbi Ah ma ti passo la ricetta È fantastica Cioè No è una roba Solo vabbè Io ho il bimbi più povero Rispetto al tuo Sì quello che non ha lo schermo Però fa niente Tanto ti spiega precisamente Cosa devi fare Wow Wow Cioè veramente Franci Wow te la passo Adesso cosa abbiamo Franci? È quello delle biglie Non l'ho mai fatto La prima volta sono emozionata Spiegamelo Allora Praticamente Hai 10 biglie Sei in squadra con una persona E devi prendere Le biglie Dell'altra persona Stiamo lontane Così non siamo Della stessa squadra Praticamente Devi decidere Quante biglie scommettere E provare a indovinare Quante biglie All'avversario Se pari Oh io sono con Sofia Io sono contro il panino Ok Allora Beh si è bloccato In realtà Quindi non so Ah lo dovevo aspettare Allora Ah no è diverso Oddio Non ho capito cosa devo fare Devi tirare sulle biglie Eh quello sto facendo Devi colpire Ho 0 biglie Sentite Non ho capito Spiegatemi il gioco Spiegatemi il gioco È tipo billiardo Sì ma Ho vinto No Sofìa non ha giocato Sofìa non ha giocato Io non ho capito come si fa Dove sei? Ti sto cercando Aspetta Ok ti ho visto Eccoci Ma non ho capito come si tira Franci Fai la striscia verde E poi clicca su ssutta Eh sì ma va pianissimo E non fa niente Basta che giochi Sto giocando Però va proprio pianissimo Vedi lui sa fare i colpi più forti Sì proviamo ora Eh vedi le hai toccate un sacco Sennò non ho capito le regole E neanche io Quindi Beh l'importante è che hai vinto Uh aspetta Mi sa che ha vinto lui Le hai tirate fuori Vedi Sì ma ancora 0 Ne ha ancora 0 Ah ce ne ha 2 Sabri Buttale fuori Buttale fuori È difficilissimo Vabbè io shoppo con i Robox Nel caso Eh vabbè Abbiamo un tentativo a testa Esatto Di comprare con i Robox Brava Ah vabbè questo è fortissimo Sì è fortissimo Adesso lo capito il gioco da subito Adesso va 4 Oh Ma no Ma no Che triste No Sabri ti ho visto Ti ho visto guarda davanti a me Io sto pagando 200 però non 100 Mi ho pagato 100 Forse perché più avanti va nel gioco Eh si vede che più vai avanti Va bene Ok ora non possiamo più perdere Perché non abbiamo più vita di esposizione Ok allora siamo 1 2 3 4 5 Ma hai visto come mi ha sparato brutalmente Ma hai visto come mi ha sparato brutalmente? Ma si è stato bruttissimo Aspetta che un attimino che mi scappa una scorreggia Ah ci scorreggio in testa Scusa Franci Mi scappava Mi scappava Dove compro il coltello? Non lo scopro No scherziamo la riprende la scorreggia La riprende la riprende E siamo in 7 E adesso questo è un po' difficile Sabri il prossimo gioco Bisogna camminare su del vetro Ok E se il vetro è distruttibile Si rompe Altrimenti no E puoi camminare E quindi chi va davanti e cerca quello distruttibile? Non noi L'uomo panino Ho fatto anche la rima Uomo panino vai tu per primo Ok ok Sembrano vogliosi di andare per primi Vabbè noi andiamo per ultimi Ma non vedo ancora i vetri Ok ora li vedo Io non vado per Uomo panino vai Si può smingere la gente? Ma quando male no Ma cavolo Ma è al 50%? Sì E ma è impossibile Allora sono troppi Vai 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 Ok Ok Grande Io lascio andare gli altri Ok Dai dai I prossimi Io faccio la fifona Oh È andato È andato È per forza a destra il prossimo Per forza Sì per forza Non possono essere tutti di fila Questa è verde Perché è diventato verde? Infatti non l'ho Ho visto anch'io che è diventato verde Ma poi 4 di fila da quella riga lì Che strano È verde Ma non c'è sopra Ancora Eh sì È anche Qualcuno va da destra Se è troppo sinistra Infatti è anche io quello che penso Esatto Bravi Non spingetemi giù In favore Ok Per me è sempre destra adesso 1 minuto e 50 Someone jump Mike vai Qualcuno salti Franci vado io per la patria Sei pronta? Sicura? Vai guardami Ok io l'ho già fatto Qui adesso tocca agli altri però Ok Grande Grande Mike Non restano 3 Non restano 3 Non restano 3 Non restano 3 Non restano anche a me sinistra Sì ma abbiamo avuto troppa fortuna però eh Tutti i 3 a sinistra dice Girl Tu già No io ho già saltato eh Ok vado Vai tu Franci No No Voglio rientrare Franci no Vabbè l'importante è che vinca una delle due Sì vai Ce ne manca una Franci Dai dai Uno per il team Io sono molto vero L'importante è che una delle due ce la faccia Vai vai Questa bionda non è mai andata Rodaina Esatto deve andare lei Ok dai Hai vinto Ups Franci Ce l'abbiamo fatta Almeno una delle due ha vinto Perché la regola era quella Una delle due doveva vincere anche per l'altra Sì hai vinto Mi ha dato il monte premi 2275 Le dividiamo insieme perché eravamo per due E così ci compriamo Ok Ragazzi 1500 euro di pizze Facciamosi la prossima volta Se volete Compriamo il VIP E compriamo anche la tuta per fare la guardia Cosa vuol dire? Puoi comprare la tuta per fare la guardia Non ho capito Oh wow che bello Sì la voglio fare questa cosa Quindi compriamo delle cose ragazzi Se volete nel prossimo video Fatecelo un po' Scrivete qui sotto Fate le scioppone Fate le scioppone Esatto Le scioppone Tutti quanti anche giù nei commenti Brava Sabri Perché hai vinto Brava Sabri Sì 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 Quindi ufficialmente Essendo un team Abbiamo vinto entrambe Abbiamo vinto certo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Cliccate sulle miniature Sul mio canale In realtà sulle miniature Che vedete a schermo Noi vi salutiamo E ci vediamo domani alle 15 Con un nuovissimo video Ciao Vi saluto anche la Fuji Ciao 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 Grazie.